Sam Altman è stato licenziato da OpenAI e entra a tutti gli effetti a capo di un nuovo team di ricerca in Microsoft. OpenAI è l'azienda che lui stesso insieme a Elon Musk ha fondato e ha portato in pochi anni a valere più di 80 miliardi di dollari. Ma allora che senso ha tutto questo? In questo video cercheremo di dare una risposta a questa domanda, analizzando i fatti e non concentrandoci su tutte le speculazioni che sono emerse negli ultimi giorni. Prima di raccontare quello che è successo negli ultimi giorni, è utile dare un po' di contesto su chi è Sam Altman. Nato nel 1985 in Missouri, studia informatica a Stanford che decide poi di lasciare, all'età di 19 anni, per concentrarsi sulla sua prima startup chiamata Loopt. Loopt è un servizio di geolocalizzazione sociale che viene acquistato per la cifra di 43 milioni di dollari da Green Dot Corporation. La sua carriera professionale prende una profonda svolta quando Paul Graham, filosofo del mondo startup e fondatore di Y Combinator, ovvero più grande acceleratore di startup al mondo, gli chiede di diventare il presidente di quest'ultimo. Paul Graham più volte ha sottolineato il talento di Sam e le sue capacità di leadership, riconoscendo in lui uno degli elementi più brillanti del mondo della tecnologia e dell'imprenditoria. Da questa posizione privilegiata, Sam vede e supporta la crescita di aziende che sono diventate dei veri propri unicorni, come Stripe, Airbnb, Dropbox e Reddit. A dicembre 2015, Sam fonda OpenAI, ed è proprio qua che inizia tutto quello che ci serve per comprendere al meglio gli avvenimenti degli ultimi giorni. OpenAI viene fondata da Sam Altman, Elon Musk, Greg Brockman, ex CTO di Stripe e Ilya Suskever, uno dei più grandi ricercatori di sempre nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Inizialmente viene costituita come una società no profit, con l'obiettivo di sviluppare l'AGI, ovvero l'acronimo di Artificial General Intelligence. Parliamo quindi di un tipo di intelligenza artificiale che possa sostituire e essere il migliore dell'uomo in tutti i task che hanno una sorta di valenza economica. Però questo, proprio da statuto, deve essere fatto in modo sicuro, cercando di portare solo i benefici e arginare il più possibile i rischi di questa tecnologia. Altman, a cui è stato affidato il ruolo di amministratore delegato, capisce ben presto che la struttura no profit non regge, perché per sviluppare questa tipologia di tecnologia servono soldi e serve aprirsi a capitali di terzi. Quindi nel marzo del 2019 viene creata una nuova struttura societaria chiamata OpenAI LLC. Questa è un'azienda a responsabilità limitata, controllata da una società no profit, che funge da un unico socio generale. Questa configurazione, descritta come Caped Model Profit, in quanto i rendimenti che gli investitori possono avere non possono andare oltre il 100% per, permette a OpenAI LLC di attirare investimenti di capitale e competere per poter assumere i migliori talenti sul mercato, mantenendo però al contempo l'impegno nei confronti della sua emissione originale no profit. Ed è proprio nel 2019 che Microsoft fa un investimento di un miliardo di dollari. Anche se questo investimento non è solo monetario, ma è anche un investimento strategico. Infatti, oltre i soldi, Microsoft mette anche a disposizione i server per addestrare i modelli. Alcuni anni dopo, precisamente il 30 novembre 2022, viene sganciata la bomba. CharCpt viene rilasciata al pubblico e in soli 5 giorni fa quello che altre società come Instagram, Facebook o TikTok avevano fatto in mesi, ovvero raggiungere milioni di utenti attivi. Nei mesi successivi, Microsoft va a consolidare il proprio investimento, iniettando all'interno di OpenAI ulteriori 10 miliardi. Ma ricordiamo, e è importantissimo stamparsi nella mente, che Microsoft detiene solamente il 49% dell'azienda a responsabilità limitata, ma in nessun modo detiene il potere decisionale, ovvero non ha neanche un posto all'interno del consiglio di amministrazione, che è gestito dallo stesso consiglio di amministrazione che gestisce OpenAI No Profit. Ora cerchiamo di andare per ordine, cerchiamo di analizzare la cronologia dei fatti che hanno portato dalla notizia del licenziamento di Sam Altman fino ad oggi. Tutto inizia con un blog post di OpenAI pubblicato venerdì 17 novembre, dove si legge che il board dell'azienda ha concluso che Sam Altman non è stato costantemente sincero nelle sue comunicazioni con il consiglio di amministrazione, ostacolando la capacità di quest'ultimo di esercitare le proprie responsabilità. Il consiglio non ha quindi più fiducia nelle sue capacità di continuare a guidare OpenAI. Quindi Sam Altman, venerdì 17 novembre, viene rimosso dalla sua carica di amministratore delegato. Vi ricorda forse qualcosa questo? Inoltre, il board ha deciso anche di rimuovere Greg Brockman dal suo ruolo di presidente, lasciandolo comunque in azienda perché ha un ruolo fondamentale nello svolgersi di operatività. Al posto di Sam Altman viene eliminata come CEO provvisoria Mira Murati, che fino ad allora aveva ricoperto la posizione di CTO. Qua si scatena il completo panico sui social. C'è chi sospetta che in OpenAI sia stata sviluppata la famosa AGI. Il board non voglia portarla al pubblico perché avrebbe dei rischi troppo alti. Altri invece sostengono che nell'ultimo rilascio di GPT-4 Turbo, ci siano stati moltissimi problemi di sicurezza, che siano stati denuti nascosti da Sam a Microsoft, e che proprio per questo motivo Sam sia stato licenziato. Inutile dire che la maggior parte di queste voci allarmiste si sono rivelate non essere nient'altro che speculazioni. Ma torniamo ai fatti e a quello che realmente sappiamo oggi. Greg Brockman spiega in un tweet come anche lui fosse all'oscuro di tutto e di come la catena di 20 sia iniziata giovedì sera, quando Ilya Suskever ha chiesto ad Altman di partecipare a un Google Meet fissato per il giorno dopo. In un tweet arrivato poche ore dopo da quest'ultimo, Brockman dà l'annuncio e si dimette. La giornalista Cara Swisher sostiene che il conflitto in OpenAI sia stato in verità generato su divergenze nella visione del futuro dell'azienda. Da una parte vi è il gruppo di Sam Altman e Brockman che si focalizza sulla velocità di realizzazione e di commercializzazione dei prodotti, mentre dall'altra parte vi è una fazione che ci concentra sulla safety dell'EI e sul ridurre i rischi. Un aspetto molto importante di tutta questa storia è che Microsoft era stata avvisata solamente poco prima dell'incontro, non dandogli quindi la possibilità di intervenire. A seguito della definistrazione di Altman e delle dimissioni di Brockman, diversi dipendenti hanno iniziato a dare o minacciare le dimissioni. A queste pressioni interne sul board sono venute anche quella degli investitori. In prima linea Microsoft che ha chiesto al board di reintegrare Altman. In particolare Satia Nadella, il CEO di Microsoft, secondo alcune fonti riportate da Bloomberg, era completamente furioso con la decisione presa dal board che tra l'altro aveva preso la sprovvista. Sabato, due articoli, uno del New York Times, l'alto di The Verge, riportava voci secondo cui i membri e il board abbiamo chiesto a Sam Altman e a Brockman di tornare. Oltre a questo, i componenti del board sarebbero pronti ai dimissioni. Domenica Sam pubblica una foto sul suo profilo Twitter in cui indossa un cartellino degli ospiti di OpenAI. Dal tweet sembra che sia evidente il ritorno di Altman al comando dell'azienda. Ma le cose in realtà non vanno in questa direzione. Infatti, Sam e il board non riesco a trovare un accordo. E OpenAI annuncia un nuovo amministratore delegato. Ricordiamo che è il terzo del giro di tre giorni. Si tratta infatti di Amher, ex CEO di Twitch. Questo perché Mia Murati si è espressa pubblicamente dalla parte di Sam Altman. Ed è proprio qui che Satia Nadella intervenire e sgancio la vera e propria bomba. Pubblicando questo tweet in cui annuncia pubblicamente che Altman e Brockman entreranno a tutti gli effetti in Microsoft per essere a capo del nuovo team di ricerca sull'intelligenza artificiale. Sicuramente una vicenda in rapida evoluzione. Però vorrei riuscire a portarmi a casa tre concetti molto importanti da tutta questa storia. Dentro OpenAI si è appena combattuta la battaglia tra AI for profit e AI no profit. Che si combatte anche altrove su altri livelli. Vediamo come ci sia uno spaccato tra chi come Altman crede che l'intelligenza artificiale sia pronta alla commercializzazione e alla democratizzazione mentre c'è chi è molto ribassista su questo. E si preoccupa molto di come questa possa provocare danni e rischi esistenziali per l'intera umanità. Da questa storia emerge anche la debolezza e la fragilità interna di un'azienda che sta guidando una vera e propria rivoluzione. Producendo sistemi di intelligenza artificiale che potrebbero sostituire molti lavori e cambiare radicalmente moltissimi business. Il genio che dimostrano nella produzione di software fa da controppeso all'apparente totale ingenuità che hanno dimostrato nella gestione delle dinamiche interne. Il terzo punto che vi voglio lasciare è che si tratta di un pattern ricorrente in Silicon Valley e che da sempre ha portato a grande innovazione. La Silicon Valley nasce appunto da quelli che sono stati chiamati gli otto traditori. Ovvero otto ingegneri che hanno lasciato la pionieristica Shockley Semiconductor per fordare Firechild Semiconductor. E da lì partendo per avviare Intel e i primi veri e propri veicoli di venture capital. Ripresentandosi nella crescita e nella vendita di PayPal che ha portato al forbarsi di quella che è conosciuta come la PayPal mafia costituita da personaggi come Peter Thiel, Elon Musk, Ray Doffman e molti altri nomi famosi che hanno fondato aziende da Tesla a YouTube. Anche il nascente campo dell'AI generativa segue questo pattern. Questo è già avvenuto per ben due volte. Dal paper Attention is all you need che ha posto le basi per quelli che sono oggi il large language model di cui tutti gli autori si sono disparati in diverse società e al tempo erano tutti in Google quando è stato scritto a quelle che è la divisione che invece oggi sta riguardando OpenAI. Quindi qualcosa che sicuramente ci possiamo portare a casa da questa storia è che la storia in questi giorni ha subito un grandissimo cambiamento. Non è più un'azienda sola a guidare l'innovazione nel mondo dell'intelligenza artificiale ma la conoscenza e le abilità si andranno a diramare in diverse altre aziende.